Scongiurata la chiusura dell'ufficio postale di Ponte Barizzo a Capaccio Pestum, a comunicarlo l'amministrazione che attraverso il sindaco Palumbo si è attivata scrivendo a poste italiane per evidenziare l'importanza dell'ufficio postale di Ponte Barizzo e per manifestare la disponibilità del comune a trovare una soluzione idonea al fine di mantenere in essere l'ufficio. A breve quindi i contraenti si attiveranno per la formalizzazione dell'accordo. Grazie all'interlocuzione avuta con i dirigenti di poste italiane, afferma il primo cittadino, siamo riusciti così ad evitare l'interruzione definitiva di un pubblico servizio per la nostra comunità. Questo risultato conferma un'attenzione sul territorio a 360 gradi senza tralasciare alcun aspetto per garantire i servizi necessari a tutti.